Per qualificarsi? Diciamo che già dal primo torneo in Giappone abbiamo visto tutti che è forse più difficile qualificarsi che vincerlo e lì abbiamo già visto un po' come è stato il livello Ciao Piergigino Caruso, ti faccio i miei più sinceri auguri è un grosso in bocca al lupo per la tua musica, per la tua carriera spero proprio che la tua musica entri sempre di più nella casa di tutti gli italiani Ciao da Gigi Mastrangelo Sì perché non segui le mode, ora prendi tutti i treni che restano fermi per te